ciao a tutti benvenuti nel mio canale come sapete nel mio canale ci sono varie playlist tra cui c'è la playlist dedicata alle recensioni andiamo a fare il cosiddetto unboxing di questo pacco che mi è appena arrivato che sarebbe vi anticipo sarebbe un libro sarebbe un libro sapete che nella playlist che ho creato quella delle recensioni vi vado a recensire o libri che parlino di esoterismo o di argomenti sul paranormale o argomenti sui tarocchi segni zodiacali oppure vi ho fatto e vi farò la recensione di mazzi di tarocchio tutta ciò che tutto quella che è la strumentazione tutta quella che è la strumentazione che si può utilizzare nella ritualistica in ambito esoterico però quest'oggi ci dedicheremo ci dedicheremo ai libri quindi ho lasciato come canale perché non volevo fare troppo playlist un pochettino vi faccio vedere questo libro che lo aspettavo da un sacco di tempo e vi voglio anticipare che un libro che parla di fantasmi quindi farò diciamo una breve piccola questo il cosiddetto unboxing mamma mia mamma l'hanno imballato così bene l'hanno imballato abbiamo meno male che certe volte ho avuto il le cattive sorprese proprio dovute a un cattivo imballaggio vedete vedete come l'hanno imballato bene guardate c'è tanta carta tutta carta con questi pallini di aria quindi vi arriva il libro il libro vi arriva è bello perfetto come dovrebbe essere molto importante l'imballaggio allora vediamo se riusciamo oh non ho mai visto un libro imballato meglio che giuro che certe volte mi sono arrivati anche rovinati cioè guardate quanta carta hanno messo chapeau perché è tutta che c'è neanche fosse un oggettino di di ceramica quindi già per questo già va un pollice in su eccolo qua guardate quanta carta guardate quanta carta ok noi vi voglio far vedere quanta carta è stata utilizzata per imballare perché significa comunque vi arriverà come vedete un libro super super integro vedete sono contenta quando fanno quando l'imballaggio è perfetto allora questo libro qui lo aspettavo da tempo è un libro che riguarda storie di fantasmi di spettri per quanto riguarda la zona di verona e dei dintorni quindi la zona del garda ed è stato scritto da carlo scattolini che è un autore il quale ha già pubblicato libri di questo genere su questo argomento andiamo a vedere un pochettino che si dice andare in cerca di quel nebbioso sotto bosco fatto di racconti bisbili allora io da quello che so questo libro narra cioè è stato scritto dall'autore non solo in base a quelle che erano le sue conoscenze ma in base proprio una ricerca fatta giorno per giorno una lenta ricerca fatta proprio andando sui luoghi dove ci sono state queste apparizioni di fantasmi e di spettri e andando a interrogare proprio la gente del posto che è una cosa sapete proprio affascinante affascinante qui non si tratta di aver preso insomma quattro notizie su internet no così insomma siamo bravi tutti a scrivere un libro invece in questo caso io so che l'autore è andato porta a porta nelle locande andando a chiedere a parlare con gli anziani con le persone del luogo che abitavano proprio in queste zone qui proprio a parlare con chi ha avuto questi avvistamenti o chi in qualche maniera era conoscenza per presa diretta per conoscenza diretta quindi non il classico sentito dire però insomma sono sono delle testimonianze che hanno una valenza una valenza maggiore quindi vediamo un po' qui che dice andare in cerca di quel nebbioso sottobosco fatto di racconti e bisbigli che da tempo si tramandano e che verranno cancellati dalle nuove era quindi insomma concretizzare mettere nero su bianco appunto perché queste storie di fantasmi vengono narrate dalla nonna alla figlia dalla figlia la nipote della vicina di casa e si rischia si rischia di perdere questo questo materiale storico e culturale che potrebbe poi anche far parte del folklore di una singola zona geografica però pur non essendoci la prova scientifica voglio dire di avvistamenti eccetera eccetera però è peccato che nessuno si prenda poi la briga di immortalare di cristallizzare nel tempo questi avvistamenti queste storie che poi hanno caratterizzato la storia di un luogo ben preciso indagare per riferire a studiare per riportare a galla quello che i veci cioè i vecchi hanno sempre raccontato amori romantici consumati al chiaro di luna feroci assassini celati dal buio della notte e dalla storia ombre inquiete che dimorano in riva all'adige tra monumenti millenari e paesaggi da fiapa questi racconti sono volte a svelare le leggende e i fatti che hanno per protagonisti spettri fantasmi spiriti come avevamo visto nel titolo quelle entità che popolano da sempre racconti più misteriosi non solo di verona ma tutta la sua provincia che siano racconti che provengano da cupi monti lessini o dai vetusti manieri che costellano le colline e la campagna dalle rive del garda all'adige le ombre andimoro ovunque questa meravigliosa terra qui c'è ecco questo è l'autore vediamo se si vede meglio carlo scattolini che vediamo vi volevo far vedere se qui dice che c'erano già altri libri allora laureato in giurisprudenza autore di vari testi articoli carattere storico antropologico si è dilettato anche con la narrativa col bontone in giallo è scritto al dico al corso di conservazione dei beni culturali presso l'ateneo di verona volevo capire se c'erano gli altri libri che avevano scritti aveva scritto qui c'è la bibliografia una bella queste serate fredde vedete allora andiamo al ritroso valeggio sul mincio il cavaliere misterioso e ci sono tutte queste sono il fantasma della carla terribili paludi è bello poi magari andare con la scusa andare in questi luoghi fare un viaggio e trovarsi vedete per esempio garda sul garda fantasmi d'amore magari uno si va a fare un weekend da quelle parti la ragazza folle mamma mia vedete ci sono tutte queste storielle la fanciulla in bianco l'ultima battaglia bevi l'acqua il castello di bevi l'acqua i classici fantasmi del castello il castello di bevi l'acqua la potente padovani tra le sue mura si possono incontrare le ombre di chi lo visse di chi l'uomo fantasmi napoleonici a vedete c'è prima c'è prima credo il gas quello che successe a verona e poi allora fantasmi spettacolo intorno vedete c'è l'indice qua allora sì come dicevo io ci sono prima tutti i racconti sulla città di verona e poi sulla su quelli su quelli della su quelli della provincia che bello è un indice fatto benissimo perché vedete voi vi andate a fare un tour non lo so il tour del garda vi trovate lì che non so vi fate bardolino e dite ma bardolino vediamo la storia andiamoci a vedere il luogo in cui viene narrato in questo libro che c'era il fantasma tal dei tali no poi ve ne andate a peschiera del garda che sempre lì da quelle parti è bello fare un tour del genere dopo aver letto questo dopo aver letto questo libro allora io lo devo ancora leggere però diciamo promette ora vediamo qui che dice l'autore in modo coinvolgente trasforma fuori popolare in brevi racconti che ci proiettano nei tempi che furono facendoci rivivere per un momento tra fantasia e realtà come dicevo prima scorci di tempi passati le leggenti si intrecciano alla storia e alla storia e la storia alla realtà questo non è solo un libro con racconti di fantasme spettri di feroci assassini di amori vissuti o traditi all'ombra della millenaria bellezza di verona e della sua provincia ma vuole anche essere un monito a non dimenticare ecco quello che dicevo io la nostra cultura le nostre tradizioni che l'obbligo dei tempi moderni ci sta portando via bello ok io non ancora lo leggo però come vi dicevo promette bene il libricino mi piace lo vado a caricare energetica la casa editrice il gufo editore è praticamente cosa volevo dire più credo che sia in vendita anche su amazon sì allora sì perché l'avevo già visto l'altro giorno è in vendita su su amazon e avevo visto che era già ottimamente recensito quindi poi io magari farò un secondo video in cui vi dirò sicuramente mi piacerà però vi darò il mio sincero vi darò il mio sincero parere però già così è molto intrigante mi viene voglia di il papio infestato lo voglio leggere qua vabbè magari arrivo lì si racconta che anche lungo la vecchia strada che conduciva verso trento vi fossero bande di brigandi e tagliole pronte ad assaltare piandanti per i cavalli nipottino questa piaga era contrastata le truppe cavallo avrebbero tra queste colline morti senso conforto religioso nel peccato ah ecco quindi ci sarebbero questi briganti nei rivoli veronese prato della morte è bello sono carini anche i titoletti prato della morte l'ombra del gentiluomo va bene va bene adesso non voglio togliere il gusto non voglio spoilerare il contenuto però vi darò poi a breve un sincero parere su questo libro che ripeto mi è mi piace già sia esteticamente mi piace la mi piace la copertura la copertuna la copertina e devo dire ribatisco che è stato imballato in maniera perfetta io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao